La squadra ovviamente può aver anche risentito da un punto di vista mentale una sconfitta così pesante che però in qualche maniera credo che abbiamo disputato nella condizione non migliore perché non avevamo tutti gli uomini a disposizione però credo che l'abbiamo affrontata ci siamo giocati una partita contro una squadra secondo me dichiaratamente più forte anche dal sottoscritto riconosciuto quindi speriamo che ci sia questa presa di coscienza da parte dei ragazzi che inizia il girone di ritorno tranne la partita da recuperare con la Casertana e quindi l'approccio dovrà essere di una squadra che sa che indietro non si può più tornare o meglio non c'è la possibilità in un girone come questo di ritorno per recuperare dei punti laddove si dovessero perdere quindi ogni partita rimane unica con la possibilità di non recuperare più i punti persi e quindi giocare con un intento mettere da parte anche a volte il fioretto e andare alla ricerca della concretezza per dare un corpo e una struttura di un certo tipo ad una classifica che ancora non ci vede in una condizione brutta in una situazione brutta però abbiamo l'intenzione e la voglia di migliorarlo quindi l'idea deve essere quello del collettivo di andare alla ricerca del risultato al di là dell'avversario nella fattispecie abbiamo già un incontro molto delicato una squadra ben messa in campo che ha una conoscenza da diversi anni con lo stesso tecnico ha cambiato dei calciatori ma l'idea di questa squadra rimane tale lo abbiamo pagato anche nel girone di andata alla prima anche se avremmo meritato qualcosa in più ma ci ha dato conto di essere una squadra comunque ben attrezzata rapida, aggressiva e quindi con la giusta mentalità Allora, una gara importante nella gara di andata il Monopoli vince al Menti contro una squadra praticamente neonata ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa chiede Gianluca Picella mentre Domenico Ferraro aggiunge se si attende dalla sua squadra delle risposte contro un avversario che in casa non sembra molto concentrato Sassolino no, nel senso che ho voglia di fare il risultato fuori casa perché anche noi abbiamo questo handicap al di là di quelle che possono essere le problematiche dell'avversario che mi riguardano ma fino a un certo punto penso alle problematiche della Juve Stabia il nostro dovere, la nostra voglia di iniziare a fare anche risultato fuori questo va strettamente collegato alle parole che dicevo prima di una squadra che deve badare al suodo deve badare di trovare al più presto quei gol che ci servono per migliorare una classifica secondo me migliorabile Natale Giusti Vivi Centro il Monopoli sta cambiando pelle rispetto alla gara di andata con i diversi movimenti di mercato che stanno riguardando la squadra pugliese può rappresentare un'insidia in più per la gara di sabato? Ripeto, al di là dei calciatori che compongono la rosa del Monopoli la cosa che mi preoccupa è la mia squadra perché ovviamente dobbiamo calarci in una seconda parte di campionato con questa idea che non c'è più tempo mentre nel girone di andata abbiamo avuto un po' di credito in più anche perché avevamo un girone di ritorno giustamente la squadra era neonata come hanno giustamente sottolineato un po' più ampio, oggi c'è una conoscenza maggiore abbiamo quelle consapevolezze abbiamo constatato che è un girone duro, tosto e come tale va rispettato per essere nella condizione migliore di poter affrontare un girone di ritorno all'altezza della situazione dobbiamo essere in primis noi concentrati alla ricerca di quello che non abbiamo avuto nel girone di andata che non è solo il gol perché il gol è il terminale di una costruzione di un gioco, di un'identità occorre quella cattiveria necessaria che in molte situazioni ci è mancata Gioacchino Roberto Di Maio, Sabbia Channel Giuseppe Amato e il resto del calcio l'arrivo di Borrelli porta a 4 del numero di punte di duolo presenti in organico vi è all'orizzonte un possibile passaggio ad un modulo a 2 punte per migliorare il rendimento offensivo o la permanenza di qualche attaccante in forse? diciamo che entrambi le cose perché ancora il mercato è aperto non abbiamo contezza di quello che può succedere da qui al 4 febbraio però è anche una possibilità che abbiamo analizzato già da qualche settimana non solo perché i gol sono pochi anche per avere quella alternativa di cui si era parlato ancora prima che iniziasse il campionato di una squadra che riesce ad essere camaleontica sotto certi aspetti e quindi avere delle conoscenze maggiori proprio per ovviare a delle problematiche che possono così rallentarci nel nostro cammino quindi trovare un'alternativa, scoprire e avere coscienza di altre condizioni che possono migliorare il nostro rendimento non solo da un punto di vista prestazionale ma anche risolutivo credo che sia un qualcosa da non snobbare assolutamente Giorchino Roberto Di Maio Stabiaciano e lo aggiunge anche alla Juve Stabia non vince da tre partite al netto di due pareggi amari a Catanzaro e Foggia del mio K.O. meritato con la Ternana teme che le prossime tre gare ravvicinate possono essere determinanti per la stabilità della sua panchina? Beh i pareggi di Catanzaro e Foggia sono amari perché in entrambe le partite avremmo meritato di più, in questo senso accetto l'amaro dei pareggi non lo accetto in una generalizzazione del concetto perché intanto abbiamo fatto due punti che spesso fanno la differenza tra il vincere e il perdere e quindi piuttosto che una sconfitta anche nella disponibilità di tre punti un punto fa sempre la differenza e poi perché comunque danno morale l'abbiamo fatto contro due squadre che erano in un buon momento soprattutto il Foggia il Catanzaro anche per il riconoscimento di una rosa importante costruita per vincere e noi che ci siamo giocati le nostre carte le nostre chance secondo me a testa alta con molto onore poi il K.O. Colaternano è meritato sicuramente il traballare della mia panchina lo è sempre perché quando non vinci ovviamente sei sempre in discussione ma io lo sono con me stesso da quando inizio tra l'altro allo stato attuale credo che non ci siano le condizioni per pensare questo ma per un semplice motivo perché stiamo rispettando dei programmi stabiliti allo stato attuale ci rientriamo e comunque laddove dovesse esserci questa possibilità non sarei meravigliato perché ormai faccio questo mestiere già da un po' di anni non sono tantissimi ma iniziano ad essere diversi e quindi la mia prospettiva è sempre una prospettiva positiva di chi vuole provare a fare meglio e poi le sorti del tecnico dell'allenatore sono sempre dipendono sempre da tanti aspetti e da tanti fattori se fosse solo per i risultati non avrei nulla incontrato Francesco Sabatino Metropolis dal mercato è arrivato Borrelli e sembra essere ad un passo Elizalde due ragazzi classe 2000 c'è un cambio di programmi si punta al minutaggio e non più alle prime posizioni come era stato chiesto dal presidente Langella minutaggio no la squadra non verrà smantellata credo che questo aspetto l'abbiamo già ormai definito non ci sarà un cambiamento di rotta ci può essere qualche variazione ci può essere qualche innesto sempre che faccia al caso nostro al di là dell'età credo di essermi espresso più volte dicendo che non è l'età che fa la differenza ma è le qualità del calciatore o il potenziale del calciatore nella fattispecie Borrelli è un profilo alto che viene da una squadra di serie B dove non ha avuto la possibilità di esprimersi come avrebbe voluto quindi noi ci giochiamo questa carta in un reparto dove ci ha visto un po' carenti sia di uomini ma soprattutto in termini di numeri per quanto riguarda Elizalde è un giocatore anche egli che viene dalla serie B che ha qualche presenza che va a completare quel reparto dove nello specifico Rizzo non aveva un'alternativa vera e propria ma potrebbe anche darci una mano in posizione centrale se ci fosse qualche uscita ma allo stato attuale è un giocatore che non è stato ufficializzato e quindi non lo ritengo della Juve Stabia laddove succedesse è un discorso che affronteremo più avanti sempre Francesco Sabatino Metropolis la Juve Stabia non è mai riuscita a vincere contro le squadre che la precedono in classifica come si può colmare questo grave limite? beh ripeto il girone di ritorno deve essere anche un motivo guardando al passato cioè al girone di andata che qualcosa in più va fatto ora in termini pratici ovviamente potrei rispondere con il lavoro con la cattiveria che non si può comprare però ma deve nascere da ognuno di noi quella voglia di migliorarsi per raggiungere o meglio per ottimizzare quello che di buono viene fatto ma che spesso non viene completato come la realizzazione quindi il girone di ritorno è un'ulteriore prova sulle basi di un recente passato che deve vedere in ognuno di noi una cattiveria diversa un cinismo diverso una richiesta diversa individuale e collettiva solo così attraverso il lavoro individuale di tutti a mio parere possiamo colmare questa deficienza Mario Di Capo a USA B Alive mister è un po' lunga ma te la leggo così com'è mister prova a riproporle rispettando al massimo il suo lavoro la domanda sul modulo utilizzato nel corso dell'intero girone di andata fatta eccezione per pochi e rari tentativi fatti soprattutto all'inizio torneo come da lei ricordato per le gare contro Vibonese e Cavese risalenti allo scorso ottobre e nel corso della gara di Catanzaro dove corripa vicino a Romero con un modulo diverso dal consueto 4-3-3 riuscì a scompaginare la difesa avversaria e la Juve Stabia a creare molto segnando anche due reti in esterna unica volta nelle gare giocate in trasferta quest'anno potrebbe essere questo un modo per segnare di più ora con l'aiuto anche di Borrelli e con il rientro ci auguriamo al più presto di Jacopo Cernigoi allora intanto facciamo una precisazione su Cernigoi è rientrato si è allenato con la squadra però ancora non è al top quindi la sua disponibilità dipenderà molto dalle sue sensazioni quindi aspettiamo domani ovviamente cercherò di essere più chiaro questo sistema di gioco sul quale abbiamo costruito una squadra dove ci ha visti volutamente e mi riferisco al mio staff concentrarci più su una compattezza e una stabilità difensiva perché ho sempre pensato che l'equilibrio e soprattutto la compattezza difensiva ti dà poi quella forza di poter magari anche ad essere una volta raggiunta quella sfrontatezza che ti consente di essere anche a volte presuntuoso nel proporre un certo tipo di gioco ovviamente abbiamo lasciato il tempo passare mettendo da parte un po' l'aspetto offensivo ma non l'abbiamo trascurato l'abbiamo solamente trattato un po' meno e ci siamo concentrati quando ci siamo resi conto che ormai avevamo raggiunto una certa stabilità detto questo c'è la possibilità di trovare delle alternative ma lo stiamo facendo già da qualche settimana e come ho detto anche in alcune conferenze non perché non crediamo nel sistema che stiamo adottando che abbiamo costruito ma perché credo che più conoscenze i giocatori hanno a disposizione e più è facile anche interpretare il pensiero del tecnico ma allo stesso tempo soddisfare le esigenze della squadra quindi io non la vedo se l'intento della domanda può essere anche questo una sconfitta alla costruzione di una certa idea di struttura se poi viene modificata anzi il cambiamento per me è un valore aggiunto ammesso che tutti quanti lo percepiscano e ci mettano quella disponibilità che occorre per provare a fare nell'intento di tutti un qualcosa in più e di meglio soprattutto quindi da parte mia non c'è nessun tipo di difficoltà nel provare e trovare anche delle alternative di fronte ad una convinzione che ci ha dato anche dei buoni risultati perché non è tutto da buttare se siamo decimi e siamo in zona pre-off vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto rimane il fatto che si poteva sicuramente fare meglio abbiamo del rammarico su diverse partite che ci avrebbe visti in posizioni completamente lontane dal decimo posto e più vicino alle prime ma c'è il tempo per rimediare mancano circa 20 partite e i presupposti per far bene se tutti abbiamo questa convinzione grazie mille prego grazie mille